La sentenza di Garlascola, girandola dei sospetti, abbiamo anche il commento di Feltri e Laparietti, cuccioli e padroni, l'incidente stradale, la dieta dei ciccioni, le vacanze di Natale. Buongiorno, certo che la sigla che rappresenta un po' la banalità, ma un po' anche l'essenza dei titoli di un telegiornale, ormai contrasta, in questi giorni contrasta con la monotematicità di questa rubrica, perché ho deciso e sto continuando e rispetto la decisione di dedicare fino a venerdì 2 marzo questa rubrica alle elezioni, ma non alle elezioni per parlare delle elezioni, ai candidati, a quelli che si presentano, le forze politiche, maggiori, minori, coalizioni, singoli e ai candidati, cioè persone che oggi non hanno come un tempo milioni di occasioni per mostrarsi, non ci sono quelle ricchezze di prima nei partiti, non ci sono spazi a pagamento di qua e di là, ci sono le trasmissioni televisive e non è neppure detto che tutti abbiano voglia di infilarsi in un talk show pur di andare a mostrare la propria faccia agli elettori. Per esempio una persona che non ama andare nei talk show a mostrarsi, ma che preferisce dire le cose che pensa lei, è la mia ospite di oggi, che è la Lombardi, che è Roberta Lombardi, è il Movimento 5 Stelle, è stata la prima capolista dei 5 Stelle dopo le elezioni della scorsa legislatura, la legislatura che è finita adesso, poi sapete che andavano a turno, quindi è durata un periodo, è romana, ha preso tanti voti a Roma e adesso si candida alla regione Lazio, è la loro candidata prescelta per la sua, naturalmente, la sua notorietà, la sua competenza, ma anche il fatto che nel movimento è una persona che ha sempre partecipato alle decisioni per quanto riguarda Roma e Lazio. Io la saluto, buongiorno Lombardi, credo di non aver sbagliato nel presentarla come una persona che preferisce dire le sue cose, io le sto a sentire, certo le faccio le domande, mica la lascio così, senza domande, però magari qualcuna, lei mi dirà pure questa domanda, la faccia un'altra persona, non mi dia fastidio a me, però l'accetto, io faccio le domande e lei mi dà le risposte, anche se che non mi interessa, so che è disponibile, so che le va di parlare, quindi per prima cosa mi parli di questa sua candidatura, è strana perché si era detto a suo tempo che chi si candida in politica non si candiderà nelle cose amministrative, però la regione Lazio è un'entità molto grande, quasi politica e probabilmente nella scelta ha pesato anche il fatto di far contare una persona che ha un po' di esperienze. Grazie direttore per l'invito e in effetti sì, preferisco degli spazi dove si possano fare delle domande e si abbiano degli adeguati tempi di risposta, quindi per questo sono contenta di essere qui con lei oggi. La mia scelta di candidarmi in regione Lazio è stata dettata da due motivi fondamentalmente, il primo perché ho riscontrato con molta amarezza, che l'attività del Parlamento in questi anni è stata assolutamente svilita, perché si è trasformato in un posto dove vengono ratificate delle decisioni prese altrove, anziché essere quel luogo dove diverse visioni del Paese si incontrano per cercare di migliorare il futuro di noi cittadini. La seconda motivazione è stata che io in questi anni comunque da parlamentare ho seguito molte tematiche locali e quindi mi sembrava più utile utilizzare il secondo e ultimo mandato della mia vita politica del Movimento 5 Stelle all'interno del Movimento 5 Stelle per cercare di mettere a disposizione la mia reputazione, il lavoro che avevo fatto sul territorio per il progetto regionale del Movimento 5 Stelle. Vede, sulla prima parte della sua risposta resto in dubbio, la seconda parte mi è chiarissima, è chiaro che lei ha fatto una scelta perché le interessano gli aspetti locali. La prima parte sul fatto che in Parlamento si sviliscano le cose, sa, alla fine si cercano di realizzare dei programmi, poi c'è chi ci riesce e c'è chi non ci riesce. Anche voi, io ho intervistato qua il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, ha detto noi avremo un programma ben preciso, me l'ha anche illustrato, poi ora sta dicendo cercheremo di far sapere prima anche quale sarà il governo e credo che la sua intenzione sia quella di vincere le elezioni per realizzare quel programma. Quindi poi chiunque potrebbe dire ma il Parlamento non lo ha modificato, non lo ha cambiato, ma per voi è un successo se così avviene. Io le dico che cosa ho visto in questi anni, il programma del Movimento 5 Stelle è un programma che nasce poi in un movimento politico che fa del confronto, a volte anche vivace, una delle sue cifre distintive e io sono sicura che i miei colleghi in Parlamento nella prossima legislatura prenderanno i temi del programma che sono stati individuati come prioritari dai nostri iscritti sulla nostra piattaforma e sapranno fare un lavoro di raccordo tra tutte le varie forze politiche. Quello che invece ho visto in questi anni era un governo, ma non è solo quest'ultima legislatura, purtroppo è un'abitudine che abbiamo ormai da almeno dieci anni, un governo che porta decreti legge e il Parlamento converte. Punto. Senta, anche le parlo sempre da parlamentare, poi passo subito alle domande sulla regione. Cambio cappello, mi tolgo il cappello del parlamentare. No, guardi, le parlo da parlamentare esperta perché in realtà il rapporto al suo movimento, lei, io la devo considerare una parlamentare esperta, cioè di anzianità, di anzianità parlamentare lo è, era giovanissima all'inizio ma ha fatto cinque anni di legislatura, però nel corso della legislatura anche gli eletti nei 5 Stelle hanno avuto una serie di problemi, alla Camera e al Senato, lei ha seguito queste cose, ci sono stati allontanamenti, ci sono state anche espulsioni, oppure ci sono stati dissensi sanciti poi, segnati da espulsioni. Lei l'ha seguito un po' tutta questa cosa, pensa che questa volta sarà diverso, che tutto ciò che si presenta in Parlamento, lo dico perché sui giornali, legge pure lei, ci sono tutte queste questioni, ma pensa che tutto ciò che si presenta nel Parlamento col marchio 5 Stelle resterà compatto e solido? Attorno al programma? Guardi direttore, noi veniamo da quella cosiddetta società civile che spesso viene citata impropriamente, non siamo politici di professione, abbiamo un limite di due mandati per fare questo servizio civile e rientrare in quella società che speriamo la nostra azione di politico protempore possa aver migliorato. Quindi siamo anche uno specchio fedele della società, con i suoi pregi e i suoi difetti ovviamente, non abbiamo la presunzione di dire che chi si candida con il 5 Stelle è un puro o non sbaglierà mai o non verrà appunto mai colto in fallo, quello che posso dire invece è che quando si è verificato negli anni e si dovesse verificare in futuro, il Movimento 5 Stelle ha una reazione ferma nei confronti delle persone che escono dalle sue regole, regole che hanno spontaneamente accettato al momento di essere candidate, quindi non c'è nessuna imposizione dall'alto. Io partecipo a un gioco di cui so prima le regole e le ho accettate prima, quindi nel momento in cui non dovessi rispettare più quelle regole il Movimento 5 Stelle deve mandarmi via e tutelare il buon nome del Movimento 5 Stelle e su questo noi siamo irremovibili. Le posso dire che la sua risposta dal mio punto di vista è chiara e convincente, ha centrato esattamente lo spirito della domanda, è così come dice lei, voi siete rappresentate la società in tutte le sue articolazioni, pregi e difetti, può succedere ma l'importante è che lei ci ha riassunto quali sono le vostre regole, dopodiché le conosciamo e la ringrazio perché di fronte a questo tipo di domande non tutti dicono beh noi siamo così e basta e in fondo non potete chiederci di essere dei santi ma pretendiamo che rispettino le nostre regole. Complimenti, parlo subito delle questioni della Regione, farà lo stesso anche alla Regione se fosse eletta, cioè praticamente affronterà i problemi, si discuteranno però poi cercherà di essere inflessibili e quindi io, nel rispettare le leggi, nel rispettare le regole, ora io però le chiedo, anche l'ambito regionale ha molte competenze ma non ha la totalità delle competenze, quindi in qualche modo si rapporta alle istituzioni che le stanno a fianco, quelle nazionali, quelle locali, le amministrazioni locali. Una delle competenze più importanti della Regione Lazio, di tutte le regioni della Regione Lazio è la sanità, le competenze che riguardano la sanità e la spesa sanitaria. Su questo c'è una discussione che dura da mezzo secolo, no, insomma sto scherzando, ma almeno dagli ultimi dieci anni è una discussione anche forte, potente, anche giudiziaria. Voglio sapere lei che idea si è fatta di questo tema, che sarà la sua principale attività, penso io. Sì, quantomeno perché il 78% della spesa regionale è la spesa sanitaria, quindi come può facilmente capire chiunque è il tema principale di cui si occupa la Regione, sia in termini di legislazione, sia in termini poi di erogazione dei servizi attraverso le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere. Noi abbiamo da dieci anni una sanità commissariata per un debito finanziario enorme che è un'eredità delle passate giunte di centrodestra e di centrosinistra. In questi cinque anni di giunta Zingaretti, dove sono stati tagliati sul territorio del Lazio posti letto nei reparti, sono stati tagliati reparti dentro i presidi ospedalieri, sono stati tagliati ospedali, sono stati tagliati presidi territoriali e sono state tagliate ore dell'assistenza domiciliare. Praticamente non è stato un commissario il Presidente uscente, ma un liquidatore fallimentare. A fronte di tutto ciò noi abbiamo comunque una spesa sanitaria crescente, perché c'è stato uno spostamento da una prestazione sanitaria pubblica, che quindi prevede un personale comunque pagato, delle strutture pagate e dei macchinari, delle attrezzature pagate sempre dal pubblico, verso una sanità privata, per la quale la Regione paga delle tariffe che spesso e volentieri sono anche molto più alte delle attuali ed equivalenti tariffe di mercato. Quindi noi i servizi della sanità, quelli che vengono ancora erogati, come pubblico li paghiamo due volte, per quel pubblico che ancora è in piedi, per il pubblico che non viene messo in condizioni di funzionare e per il privato che va a sostituire la prestazione pubblica. Quindi noi che cosa abbiamo detto? Rovesciamo completamente la piramide, facciamo funzionare bene quello che c'è, mettiamo in condizione il personale sanitario di lavorare bene a seconda di quelli che sono poi i bisogni di assistenza sanitaria del territorio, quindi andando a fare anche quello che è uno studio epidemiologico dei cittadini e vedere quali sono le patologie di un determinato territorio e costruire l'offerta sanitaria della Regione anche per la gestione delle cronicità in maniera adeguata e soddisfacente a quelli che sono i bisogni delle persone. Per fare questo ovviamente serve un'opera di razionalizzazione della spesa sanitaria che noi contiamo di fare. Non trova che anche nel pubblico, ma ancora di più tra pubblico e privato, ci sia una visione macroscopica del problema sanitario per cui molti settori di intervento, molti settori di cura si intrecciano, si sovrappongono, si ripetono e manca in qualche caso invece qualche specializzazione e questo moltiplica la spesa e diminuisce l'efficienza. Perché la pianificazione dei servizi non è stata fatta sui bisogni delle persone, quindi sulle patologie presenti su un determinato territorio, ma è stata fatta in base a quelle che sono poi spesso e volentieri dei meccanismi di accreditamento molto poco chiari, che nascondono magari delle zone grigie tra quella che è la burocrazia e la prenditoria privata, che a volte si dimentica di fare l'imprenditore e invece fa più il prenditore di risorse pubbliche. L'avevo capito dalla parola che lei non stava facendo un errore, la prenditoria privata nel settore della sanità è impressionante, ma insomma comunque è una parola che rende l'idea di ciò che lei vuole comunicare. Ovviamente non tutta l'offerta privata è da buttare, assolutamente, solo che bisogna rovesciare la proporzione. Attualmente noi siamo nel Lazio, dopo 5 anni di giunta a Zingaretti e sono dei dati della Nao Assomed, che è la più rappresentativa associazione dei medici ospedalieri italiani, siamo a un 65% di prestazioni erogate in regime di sanità privata convenzionata contro un 45% di sanità pubblica. 5 anni fa eravamo al 65% pubblica, 35% privato. Capisce che spostamento c'è stato? Noi dobbiamo andare a chiedere al privato di integrare quello che è già un'offerta di base di qualità di servizio pubblico, non sostituirsi al pubblico. Quindi ne vedremo delle belle nel settore sanità della regione Lazio, se dovesse vincere lei, perché mi pare di aver capito che questo rovesciamento delle proporzioni non sarà in dolore, comporterà molte discussioni. Un'altra cosa, prima di passare ad altri temi tipici del Lazio, ma anche della politica e anche della discussione elettorale di questi giorni, le voglio dire un'altra cosa di cui mi sono interessato spesso, perché nel Lazio certamente un problema fondamentale per il Presidente della regione è il rapporto col Comune di Roma. Roma sta a Lazio diversamente da come Milano sta alla Lombardia. Lei lo sa benissimo perché è di Roma, Roma è un moloch all'interno del Lazio e le questioni che riguardano Roma sono separate come competenze, anche come spese, ma sono molto intrecciate e molti interventi richiedono la collaborazione con la regione. Insomma, naturalmente in questo momento la sindaca di Roma è Virginia Raggi, che è anche lei del Movimento 5 Stelle. E però io che osservo da tanti anni direi che forse se diventasse Presidente della regione la Lombardi non è che la Raggi e la Lombardi su Roma siano sempre andate d'amore e d'accordo. Adesso bisognerà trovarlo questo amore e accordo perché mi riferisco a fatti di cui si è parlato, sono misteriosi e non sono illazioni mie. Io voglio sentire la sua opinione. Poi quando capiterà sentiremo pure la Raggi, magari dopo le elezioni. Dunque sul rapporto tra me e Virginia è stata fatta molta letteratura in questo anno e mezzo. Non è personale, non è personale, non è personale. Io non ho fatto illazioni sui rapporti che non vi siete simpatiche. C'è stato un momento in cui il sindaco di Roma ha preso delle decisioni, una decisione fondamentalmente relativa a un suo collaboratore che non ho condiviso, glielo ho detto in privato, glielo ho detto anche in pubblico perché poi io sono fatta così, non è che sono un'ipocrita e nel mio movimento va tutto bene e va tutto male in quello degli altri e quindi è finita lì. Poi in realtà il sindaco si è reso conto dell'errore che aveva fatto, ha chiesto scusa e poi siamo andati avanti. Il lavoro che abbiamo fatto insieme in questi anni sui temi che io ho sempre eseguito sul territorio è sotto gli occhi di tutti e l'importanza adesso di avere una regione e un comune così importante come Roma monocolore andrà a creare anche dei benefici su tutte le altre province. Consideri che in questo momento nel Lazio noi abbiamo più o meno il 60% di cittadini laziali che sono già governati dal Movimento 5 Stelle negli otto comuni che attualmente amministriamo. Quindi contiamo di espandere questa situazione in modo da creare delle sinergie tra tutti i comuni perché poi noi vogliamo essere istituzionalmente corretti e collaborativi anche con sindaci che non siano del Movimento 5 Stelle ma sicuramente un rapporto più fluido tra comune di Roma e regione porterà benefici a tutti. Ecco in questo senso qua parliamo di politica e poi le volevo dire che appunto è chiaro che molte di quelle discussioni furono enfatizzate. Io l'ho condiviso, l'ho detto anche all'epoca ci fu un'opera giornalistica molto potente che prelude alla domanda che le faccio che è politica perché per esempio rispetto alla giunta regionale amministrata dal Partito Democratico, in generale rispetto alla politica del Partito Democratico nel Lazio e a Roma e voi in questi anni non avete mai cambiato opinione, mai modificato opinione. C'è sempre stato un forte, un forte scontro, un fronteggiamento su quasi ogni questione. Più criticavano il Movimento 5 Stelle e la Roma, più voi criticavate tutto ciò che avveniva anche in regione con delle argomentazioni. Da questo punto di vista com'è il rapporto in queste elezioni, in questa campagna elettorale? Con le altre forze politiche? Soprattutto col Partito Democratico. Guardi, le dico, io come parlamentare mi sono trovata a lavorare su dei provvedimenti portati da noi o molto spesso portati dal governo a maggioranza PD su cui siamo anche stati d'accordo e abbiamo votato a favore. Quindi quando si tratta di parlare di temi noi siamo estremamente collaborativi. Poi è ovvio ci sono dei comportamenti e degli stili diversi che non possiamo non notare. Faccio un esempio. Il sindaco di Roma, il Movimento 5 Stelle, si è trovato a dover rispondere ai giudici di determinati comportamenti che le venivano imputati. Si è presentata spontaneamente ai giudici, ha reso le sue dichiarazioni, poi tra l'altro stanno seguendo in questi giorni, tra l'altro una mi pare sia proprio dell'altro ieri, le archiviazioni delle indagini in cui era convolto per il discorso delle nomine, in cui era convolto il sindaco. Il presidente uscente in quota PD, Nicola Zingaretti, è stato coinvolto nel processo di mafia capitale. La prima volta che è stato chiamato come persona informata sui fatti da parte dei giudici ha rifiutato di rispondere. La seconda volta è stato chiamato come testimone e lì ha dovuto rispondere e ha reso una testimonianza contraddittoria per la quale adesso risulta indagato sempre nell'ambito di un procedimento connesso a mafia capitale. Capisce la differenza di stile? Sì, 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 la differenza c'è però se entriamo nelle vicende giudiziari io non ci voglio mai entrare quando riguarda queste amministrazioni e gli amministratori perché ultimamente è stata però sciolta il sindaco Raggi per la vicenda che noi sui giornali chiamiamo Romeo ma rimane aperta un'altra vicenda e forse ne verrà ancora un'altra, quindi io su questo penso che si debba vedere alla fine per tutti, per Zingaretti, la Raggi. Ma io infatti non entravo nel merito processuale anche perché non sono un magistrato, sono un politico protempore. Notavo un atteggiamento diverso della politica nei confronti della magistratura anziché collaborativo e di rispetto di ostacolo quantomeno di reticenza, quantomeno di fuga. Si vede che stanno usando nel PD, è successo anche qui da me, nelle interviste che faccio io, stanno usando l'esempio opposto per quanto riguarda le dimissioni di De Luca e io pure lì gli ho risposto come ho detto a lei perché hanno fatto l'esempio opposto, hanno detto De Luca se è dimesso e la Raggi no. E vabbè vuol dire che De Luca pensava di difendersi meglio dimettendosi e la Raggi pensava invece che fosse pretestuoso completamente, penso così, quindi gliel'ho detto. Voglio tornare ai temi regionali, sono garantista in ugual misura direi, se no sarebbe un guaio. Allora io però tornando ai tempi regionali volevo porle le questioni che sono anche temi della campagna nazionale, del suo movimento, ma che sono molto importanti nella regione, per esempio il tema del lavoro è un tema fondamentale nel Lazio, così come gli altri due, quello della sicurezza e anche quello della migrazione, questi tre temi sono quelli che dominano la campagna elettorale, però li vorrei declinare nel Lazio, cominciando dal lavoro. Noi sui temi del lavoro ci stiamo muovendo, sia dalla parte delle imprese, sia dalla parte dei lavoratori. Con le imprese stiamo facendo una serie di incontri in cui io spiego quali sono le tre direttrici verso cui ci stiamo muovendo, che sono la certezza delle regole, della cornice normativa in cui un imprenditore o un investitore decide di entrare, che al momento non esiste in questa regione perché ho una serie di incompiuti a livello di quadri di riferimento normativi che sono il piano territoriale, paesistico e regionale, il testo unico del commercio, il testo unico sull'urbanistica e l'edilizia, il piano rifiuti, questi sono tutti alcuni dei tanti incompiuti dell'Aggiunta Zingaretti e quindi andare a chiudere questi testi e dare delle certezze a chi viene a investire o imprendere nella nostra regione. La sburocratizzazione ovviamente poi figlia della semplificazione normativa e l'internazionalizzazione delle nostre attività produttive prima verso il resto del mondo e poi suscitando la curiosità del resto del mondo di venire nella nostra regione per conoscere quei beni e quei servizi che noi metteremo in un brand che abbiamo chiamato Eccellenza Lazio di cui la regione a 5 stelle si farà ambasciatrice nel mondo, chiederemo agli altri di venire a conoscere nella nostra regione dove quelle eccellenze vengono prodotte. Questo per le imprese. Nel frattempo con il raccordo del livello nazionale stiamo lavorando sul mercato del lavoro, soprattutto sulla formazione continua, questa è una caratteristica, proprio una competenza della regione, andando a promuovere il reddito di cittadinanza che è la manovra economica per eccellenza, per far ripartire il mercato interno di beni e servizi. Perché questo? Perché da una parte le persone hanno un sostegno economico che mantiene continuo anche nel passaggio tra un'attività lavorativa e l'altra, la richiesta sul mercato, la domanda che i cittadini fanno di beni e servizi proprio perché hanno una tranquillità economica. Nello stesso tempo però queste persone che soffruiscono di questo sostegno del reddito devono essere disposte prima di tutto a riqualificarsi per poter rientrare in quel mercato del lavoro che le ha provvisoriamente espulse e andare anche a impegnarsi nella ricerca attiva del lavoro proprio perché dall'altro lato alle imprese ho dato tutto un quadro di certezze e di semplificazione che permette loro di lavorare meglio. I due piani si intrecciano e noi stiamo lavorando sia a livello nazionale che a livello regionale per questo. Lo dico a lei ma lo dico soprattutto ai telespettatori, molti lo sanno, quelle ultimore rosse che vede scorrere sono la sintesi delle sue frasi, se lei ne legge una che non le piace lo dica ma vanno naturalmente sui social, vanno naturalmente sul sito di TG.com e vengono diffuse oltre questa conversazione, oltre questa televisione, insomma, questo video. Però l'altro tema su cui avete avuto come movimento parecchie critiche è quello della migrazione. Qual è la critica fondamentale che hanno fatto al Movimento 5 Stelle? Il Movimento 5 Stelle non si capisce bene cosa dice, perché dice una cosa oggi, un'altra cosa diversa un po' domani, poi dice una cosa in Italia, un'altra cosa in Europa, questo è successo, è stato riportato. Ora, a me non voglio fare questa polemica, voglio sapere cosa direbbe e cosa dirà nel caso della sua elezione alla Regione Lazio. Come Presidente di Regione non ho competenze specifiche sul tema delle migrazioni e della sicurezza sul territorio, sulla gestione dell'accoglienza, se non attraverso l'utilizzo dei fondi europei per la formazione, i corsi che vengono erogati, finalizzati all'integrazione, alle persone che vengono accolte in Italia. Quello che posso fare invece come Presidente di Regione all'interno di un progetto nazionale di sicurezza partecipata tra il livello centrale che è lo Stato e i livelli periferici che sono le regioni e gli enti locali, andare in sinergia con i comuni dal Viminale per promuovere tutti quei progetti e tutte quelle finanziarie attraverso i fondi europei, tutte quelle iniziative che hanno delle ricadute in termini di sicurezza e legalità e presidio del territorio. Quindi si può andare a stimolare come Regione Lazio quelle che sono i progetti degli enti locali, relativamente alla riqualificazione di determinati quartieri magari più degradati delle città, delle periferie. Si può andare a promuovere un'integrazione tra pubblico e privato per quanto riguarda la possibilità di aprire posti di polizia anche in località che al momento ne sono sprovviste. Si può andare a fare una collaborazione su quella che è la condivisione delle immagini legate anche alla videosorveglianza privata magari connettendoli con quelle che sono le centrali operative. Ecco, come Presidente di Regione posso finanziare e promuovere questo tipo di sinergia, di controllo del territorio. Certo, ma io le conosco le sue competenze, però poi lei è anche un esponente politico. Allora, è chiaro, ci sono stati alcuni Presidenti di Regione, ma anche parlamentari, ma anche normali sindaci o cittadini che hanno detto, noi possiamo accogliere solo i migranti a cui possiamo garantire un inserimento. Allora ogni comune ha detto, io posso garantire questo inserimento, ne posso garantire un altro. E c'è stata polemica ai tempi in cui l'Italia invece accoglieva perché bisognava accogliere, ma poi non si sapeva dove metterli. Dove sono finiti l'abbiamo visto. Molti sono finiti per strada, molti nelle mani della criminalità organizzata. Ieri il Presidente e il Capogruppo del PPA, del Partito Popolare Europeo, ci diceva ma il passaggio stesso tante volte è organizzato dalla mafia o dalla malavita. Quindi, allora, qua glielo chiedo come politico un suo giudizio su questa cosa della migrazione, perché quello che ha detto lei è sacrosanto, lei come Presidente della Regione avrà quelle competenze. Però se a un certo punto il Ministero degli Interni impazzisse e mandasse migliaia di migranti in direzione Lazio o in un altro e i comuni naturalmente protestassero, la sua posizione su questo tema? Allora questo non accadrebbe e non accadrà se il governo, che io mi auguro sia un governo 5 Stelle, il prossimo futuro governo, applicherà quelli che sono i termini di una mozione del Movimento 5 Stelle approvata all'unanimità alla Camera dei Deputati a dicembre 2014, che prevedeva una serie di interventi a monte della migrazione, proprio per evitare che sia il fenomeno stesso del trasporto, che il fenomeno della finta accoglienza riservata sul territorio nazionale, diventasse un business sulla pelle di poveri disperati che stanno scappando o da morte certa legate a situazioni di stabilità nei loro territori o da condizioni di estrema povertà. Quindi questa mozione prevedeva una serie di interventi nei porti di transito, per evitare proprio che queste persone si trovassero ad affidarsi magari alla criminalità organizzata per potersi imbarcare e venissero poi bloccati in Italia, sequestrate in Italia, perché siccome per ogni immigrante ogni giorno di permanenza sul nostro territorio ci sono dei soldi a disposizione, sono investiti dei soldi, ovviamente una certa politica, devo dire in maniera anche bipartisan tra centrodestra e centrosinistra, ci ha fatto le fortune sulla pelle di questi disperati. Chi le ha fatte elettoralmente parlando perché come spesso è accaduto in questi anni il centrodestra ha vinto delle campagne elettorali andando a agitare lo spettro della migrazione incontrollata e dell'insicurezza sul territorio, oppure come il centrosinistra che attraverso il sistema delle copilative bianche e rosse, l'abbiamo visto con Mafia Capitale, ha addirittura fatto proprio i soldi e i suoi prenditori e amici, tanto per tornare al termine di prima, ci hanno finanziato le campagne elettorali di questi signori. Quindi bisogna andare a intervenire a monte, creare dei corridoi umanitari nei porti di transito che permettano prima della partenza delle persone l'identificazione in modo che si sappia se quella persona ha effettivamente diritto allo status di rifugiato e quindi l'Europa lo deve accogliere, l'Europa non l'Italia, non solo l'Italia, o se invece non ha diritto perché è un migrante economico e quindi in questo momento l'Europa o comunque alcuni paesi dell'Unione Europea non sono in grado di accoglierlo. Una volta proceduta questa identificazione la persona viene messa nelle condizioni in sicurezza di poter arrivare nel paese europeo, quindi non solo l'Italia, in cui ha magari una comunità di riferimento e a cui vuole ricongiungersi. In questi anni invece i partiti, e tra l'altro c'è una dichiarazione di Emma Bonino qualche anno fa, ma che tra l'altro sta ripetendo con una certa soddisfazione anche in questa campagna elettorale, l'Italia ha chiesto all'Europa che le persone venissero fermate qui, cioè che arrivassero tutte qui, proprio per quel discorso di soldi, quattrini che si fanno sulla pelle di queste persone. Come Presidente di Regione questo per me è, e come politico, ex politico nazionale, ovviamente è inaccettabile. Il Lazio ospita già più diverse migliaia di stranieri, di migranti, rispetto a quelli che i criteri e i parametri di legge gli assegnerebbero. E lo stiamo vedendo, gli effetti nefasti di questa sovraimpronta praticamente sul nostro territorio, lo stiamo vedendo in tanti comuni, soprattutto limitrofi a Roma, che sono più piccoli e che quindi, ospitando un centro di accoglienza dove ci sono parecchie centinaie di migranti, hanno una situazione di maggior insicurezza sul loro territorio, proprio per le condizioni in cui sono trattate queste persone. Chiaro, chiaro. Ha detto chiaramente la sua posizione, solo che per me è tutto chiaro, tranne per me l'immigrazione incontrollata non è uno spettro, ma come dice quello che vende le case in televisione, solida realtà. Ora però su tutto il resto che lei ha detto del business, eccetera, non posso che condividere, l'ho già sentito ed è convincente. Invece, le faccio un'ultima domanda, guardi, perché chiudiamo con una cosa più legata all'attualità, l'intervista. Sono rimasto molto sorpreso in questi giorni della forza con cui sui giornali sta diventando tema dominante questo della violenza diffusa, temibile, fascista, antifascista. Lo dico perché ci sono stati 5-6 episodi criminali e brutali, sicuramente. Per fortuna, guardi, rispetto ai tempi in cui la violenza era dilagante e diffusa, ancora, per fortuna, neanche una vittima, feriti, aggrediti, sì, ma sono stati episodi. E invece se ne fa una questione come se fosse domani all'ordine del giorno, la marcia su Roma, il ritorno del fascismo, o chissà, magari l'opposto, ho notato, e gliela chiedo, perché lei fa parte di un movimento nazionale, una maggiore tranquillità nelle risposte, nelle analisi, sempre condannando la violenza, ma nelle risposte, nelle analisi, dei leader del Movimento 5 Stelle, primo tra tutti Luigi Di Maio. Voglio sapere se questa è una scelta ponderata, se invece va modificata, se lei pensa che invece la paura ci sia e sia più grande, o se proprio ce la spiega. Guardi, penso che fenomeni di violenza, purtroppo, a seconda anche del momento storico e del momento economico in cui ci si trova, ce ne sono stati e ce ne saranno. Quello che è il compito della politica è di non andare a strumentalizzarli, ma andare a mettere l'amministrazione nelle condizioni ovviamente di combatterli e le persone nelle condizioni di non dover ricadere in quei momenti di brutalità e di crisi, proprio perché ti creo come decisore politico delle condizioni di vita migliore. Poi, ribadisco, ci sono partiti che della contrapposizione ideologica, fascisti, comunisti, così ci fanno il loro proprio brodo culturale. Poi vai a vedere quella che è la loro azione politica e invece vedi che è tutt'altro rispetto a quello che poi vanno nei comizi conclamando. Io la ringrazio, la ringrazio, credo di averle fatto un po' raccontare le cose che intende fare e anche di averle fatto dare dei giudizi su quello che state già facendo e dicendo nella campagna elettorale che si intreccia, si voterà il 4 marzo anche per le regioni che sono in ballo, la Lombardia, il Lazio. Io ho sentito i candidati un po' da tutte le parti, continueremo ancora nella prossima settimana e la saluto e naturalmente in bocca al lupo, come tutti insomma, in bocca al lupo e arrivederci. E adesso noi firmiamo questa rubrica che torna domani, sempre alla stessa ora, oggi eravamo un po' in ritardo per motivi di palinsesto, naturalmente, e non c'è lo sport ora, ma TG.com direttamente con le notizie e poi l'approfondimento del pomeriggio. Buona giornata.